Noi utilizziamo sempre tutti gli accorgimenti per evitare noi e loro l'infezione da virus. Verso ottobre-novembre la nostra direttrice, la signora Lai, Giovanna Lai, ha preso l'iniziativa di tamponare sia gli utenti, un utente per famiglia, e sia i volontari tutti. Per cui da parte della Caritas c'è stato l'acquisto dei tamponi, abbiamo acquistato dei tamponi antigenici. Periodicamente si prendeva il numero delle persone che volevano aderire al progetto. Lo abbiamo fatto nel giro di un paio di volte. Abbiamo tamponato 15-20 persone per volta. Dovremmo aver tamponato già forse 120-130 persone. Abbiamo ancora qualche tampone da eseguire, per cui ogni qualvolta dovessimo avere la necessità di tamponare un volontario, ad esempio, perché potrebbe esserci stato il contatto con un positivo, allora noi lo tamponiamo. E in caso di positività date ovviamente l'esito del testo? Noi diamo la certificazione sia che sia positivo sia che sia negativo. Nel caso sia negativo lo utilizzano per quello che ritengono più opportuno. Nel caso sia positivo noi abbiamo l'obbligo di comunicarlo al servizio apposito per avere poi da parte loro la richiesta per poter fare poi il tampone molecolare per essere confermato o meno. Purtroppo la nota dolente è che ancora nessuno dei volontari è stato invece chiamato per il vaccino. No, la nostra direttrice ha fatto la richiesta verso gennaio-febbraio, non so la data, ha fatto la richiesta direttamente alla ASL per poter essere vaccinati tutti i volontari, visto la possibilità che il volontario possa essere a contatto con qualcuno positivo e abbiamo chiesto la possibilità di essere vaccinati, però non abbiamo avuto nessuna risposta a questa richiesta. Grazie.